Approvittando di un attimo di pausa lavorativa, ho preferito trovare un posto dove cercare refrigerio a questa calura che caratterizza questo ultimo scorcio di stagione estiva. Ebbene, trovandomi qui nei paraggi della nostra emittente, il posto che mi è venuto più vicino e congeniale per rilassarmi un po' è stata la villetta di via Pio XII nel rione Acquanova. Però, guardandomi attorno, mi viene voglia di alzarmi e andarmene al più presto perché qui non è che si vive tranquillamente. Nel senso che questo polmone verde, che dovrebbe essere ben curato e pulito, è invece abbandonato, degradato, sporco. C'è di tutto, c'è anche i cani, con tutto il rispetto per i quattro zampe che scorazzano all'interno di questa villetta. Non sappiamo se è un cane randaggio che può arrecare danni all'incolumità fisica di qualcuno. Pur non di meno, quello che volevo sottolineare è il totale stato di abbandono, di degrado e di sporcizia che regnano all'interno della villetta di via Pio XII, ad alcune centinaia di metri dalla chiesa della Sacra Famiglia. Qui c'è di tutto. È inutile che ogni qualvolta realizziamo un servizio in cui solleviamo il problema igienico, diciamo quello che c'è. Lo immaginate, quello che ci si può trovare qua dentro. C'è anche cartone, adesso ci si è aggiunto. Ma quello che maggiormente risalta agli occhi è la cura del verde che non è attenzionata come dovrebbe essere. A parte la sporcizia a cui dovrebbe provvedere l'amministrazione comunale e anche il nuovo direttore d'orchestra del settore ambiente, visto che è cambiato il direttore ma la musica è sempre quella, qui ci sono gli alberi che avrebbero bisogno di una potatura urgente perché i rami si sono così estesi, così allungati che vanno a finire sul marciapiede impedendo ai pedoni, gente che cammina a piedi di poter utilizzare il marciapiede evitando di camminare per strada e farsi investire da qualche autovettura, da qualche mezzo in transito. Quindi allora all'amministrazione comunale lo ribadiamo al dirigente del settore ambiente che ha preso in mano le redini della polizia di questa città. Non è cambiato niente e lo possono testimoniare in maniera eloquente le immagini che riprendiamo. C'è qui urgentemente bisogno di pulire questo piccolo polmone verde, non fosse altro per consentire ai grandi ma soprattutto ai piccoli che lo utilizzano di trascorrere serenamente qualche ora qui in piena allegria anziché stare in mezzo alla sporcizia e credo non sia giusto.